Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel, oggi un video dedicato a Nietzsche, un autore sul quale non mi sento proprio fortissimo, avendo letto soltanto La nascita della tragedia, e così parlo a Zaratustra, in epoca universitaria, e sono passati un po' di anni, ahimè. Però un autore che ho ripreso di recente, come sono convinto anche tanti di voi, sono un po' di anni che ho in casa, una montagnetta di librini gialli della Delfi, di opere di Nietzsche che mi riprometto di leggere, rimando, 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 insomma, di recente ho letto Ecce Homo, come si diventa ciò che si è. La scelta di questo testo è stata dovuta al fatto che mi domandavo, ma quale sarebbe l'opera migliore da leggere? Allora sfogliandoli, cercando online, cercando di capire, sono giunto alla conclusione che fosse questa, anche se è quasi l'ultima, diciamo la penultima o la terzultima, a seconda di come la si voglia vedere, delle opere vere e proprie di Nietzsche, penso di aver fatto una buona scelta, e sono qui a dirvi che, a mio avviso, Ecce Homo è il libro giusto con cui iniziare a leggere Nietzsche, anche se è un libro finale. Finale non soltanto cronologicamente, solo Nietzsche contro Wagner e successivo è la raccolta di appunti della volontà di potenza, ma finale perché vuole essere una chiusa, vuole essere un testo che ripercorre il suo pensiero, e in questo libro Nietzsche descrive i testi che ha scritto in precedenza, e quindi troveremo un capitolo dedicato alla nascita della tragedia, e troveremo un capitolo dedicato alle considerazioni inattuali, stessa cosa con Umano Troppo Umano, Aurora, la Gaia Scienza, così parla Zarathustra, al di là del bene e del male, genealogia della morale, crepuscolo degli idoli, il caso Wagner, e quindi risulta estremamente utile per chi vuole conoscere questo autore. Naturalmente bisogna mettere le mani avanti, e chi conosce Nietzsche avrà anche già le mani nei capelli, probabilmente, perché questo è l'ultimo Nietzsche, il Nietzsche ad un passo dal delirio, o forse qualcuno potrebbe dire dalla lucidità finale. Un Nietzsche che quindi rivede e rilegge alcune sue vecchie, soprattutto le opere più vecchie, con la prospettiva che ha maturato nel corso degli anni, che non è la stessa che aveva precisamente nella nascita della tragedia, ma essendo un autore che certamente non difetta nell'amarsi tantissimo, vede anche nelle sue opere più distanti nel tempo, in ogni caso già i segni di quello che sarebbe stato il suo pensiero successivo, e quindi in realtà proprio per questo secondo me è interessante, e da un punto di vista introduttivo, perché anche nelle opere più giovanili ti riesce ad indicare quelle che sono le basi dello sviluppo del suo pensiero. Ora, io non sono mai stato un grande amante di questo autore, perché in epoca universitaria l'ho ritenuto un autore più letterario che filosofico, è un grande scrittore Nietzsche certamente, però è chiaro che è una distinzione molto da filosofia analitica e che oggi faccio fatica ad applicare, perché se la vuoi applicare a Nietzsche sai a quanti altri, tre quarti della filosofia se non di più può essere in qualche modo considerata in questi termini, ma credo che questa considerazione sia interessante proprio perché la distinzione fra ciò che è letterario e ciò che è filosofico palesemente va bene in termini accademici, ma diciamo che svapora poi quando si entra nei testi. È una distinzione di comodo, una catalogazione come ne abbiamo mille altre ancora più sottili di questa, ma intendiamoci. Nietzsche è un grande scrittore, è sicuramente un poeta, un autore letterario di altissimo livello, cioè non toglie che sia un filosofo, proprio perché iniziamo un pochino a giocare con le parole quando vogliamo essere troppo definitori in questi termini, quindi intendiamoci. Nietzsche, autore, dicevo, estremamente enfatico, che non, certo, non lesina i complimenti a se stesso, un autore che si vede così rivoluzionario, importante, unico nella storia, il primo uomo onesto della storia o qualcosa del genere, mi pare si autodefinisca, a volte fa un po' sorridere a me personalmente che non tengo il suo santino come lui non vorrebbe, ora lo vedremo, da nessuna parte, a volte mi fa un pochino sorridere questo suo costante elogiarsi leggendo, per quanto ripeto estremamente coinvolgente, anche bello da leggere, leggendo viene veramente da dirgli ma ascolta ma queste cose non te le devi dire da solo. In ogni caso un autore che soffre, a mio avviso, del contesto d'estrazione, ne soffre persino troppo, quasi ad universalizzarlo e a rendere, a vedere universale quella che è una storia, sia filosofica del suo pensiero che biografica, a tutti gli effetti, una storia di un rigetto. L'opera e la vita di Nietzsche sono un'opera di rigetto e questo assolutizza in qualche modo quell'idealismo tedesco che lui detesta, a mio avviso, molto molto giustamente con buonissime argomentazioni, ma che non esaurisce lo scibile, cosa che sembra a volte fare, mentre altre volte poi dimostra di essere estremamente conscio di pensiero orientale. Sappiamo che poi Nietzsche è stato anche influenzato da Emerson, ad esempio, autore americano, importante anche per il pragmatismo. Comunque, una vita, una produzione estremamente tormentata, dovuta proprio allo sviluppo di un pensiero critico in seno alla cultura tedesca, di cui Nietzsche arriva ad essere un odiatore senza appello, soprattutto lo si vede qui in ecceomo, e questo è davvero lo sviluppo del suo pensiero, non si poteva certo dire la stessa cosa. All'inizio della sua produzione si vede come poi si evolve la sua posizione rispetto a Wagner. Quindi, a proposito di autoelogi senza vergogna, i capitoli che non sono direttamente intitolati alle sue opere precedenti saranno perché sono così saggio, perché sono così accorto, perché scrivo libri così buoni, e poi alla fine, perché io sono un destino e l'ultimo, gloria e eternità. Diciamo che perdoniamo a Nietzsche, autore così verace e immoralista rispetto a modestie e in qualche modo accortezze che lui detesterebbe. Gli perdoniamo per forza questa sua visione gigantesca di se stesso, dirà chiaramente di essere lui, Zaratustra, lo dice esplicitamente nel capitolo dedicato qui, come è logico che sia. Gli perdoniamo prima di tutto perché il suo caso umano e filosofico è così interessante, secondariamente perché in realtà è coerente con la sua posizione. In ogni caso, Nietzsche, un autore facilissimo da idolatrare, è molto facile innamorarsi di un autore che scrive così, di un autore così potente, rovesciare idoli, parola che uso per dire ideali. Questo sì è affar mio, leggo qui dall'introduzione ma giusto perché ho aperto. La realtà è stata destituita del suo valore, del suo senso, della sua veracità, nella misura in cui si è dovuto fingere, corsivo, un mondo ideale. E Nietzsche dirà, vi voglio leggere questo breve estratto, che poi finisce per essere per lo più una citazione dallo Zarathustra direttamente. Zarathustra, oracolo per certi versi, ma Zarathustra non sarà per caso un seduttore? Domanda che si pone Nietzsche alla fine del prologo. È il prologo, giusto? Fatemi sì sì sì, esatto. Ma Zarathustra non sarà per caso un seduttore? Guardate che questa è una domanda interessante. Nello stile oracolare così potente, così iconoclasta è distruttivo di Zarathustra, che altri non è che l'autore stesso, cosa che Nietzsche ammette candidamente, ammette, come se non fosse chiaro, in questo ecceomo. Non sarà un seduttore? Cioè non si potrebbe accusare lo Zarathustra di una certa furbizia, di una certa strategia comunicativa a proprio vantaggio? Quindi Nietzsche si domanda, ma Zarathustra non sarà per caso un seduttore? Che cosa dice quando per la prima volta torna alla sua solitudine? Proprio il contrario di quello che direbbe in un caso simile un saggio, virgolettato, un santo, un redentore del mondo, o un qualche altro decadente, a cui fa sempre il riferimento Nietzsche. Non solamente sono diverse le sue parole, lui stesso è diverso. Cioè Zarathustra, distruttore di idoli, non si pone forse come idolo a sua volta? Molto interessante. La citazione che ora segue dopo questa breve introduzione. E quindi ora in realtà stiamo citando direttamente Zarathustra. Ora vado da solo, discepoli miei. Anche voi andatevene da soli. Così io voglio. Andate via da me e guardatevi da Zarathustra. Ancora meglio, vergognatevi di lui. Forse vi ha ingannato. L'uomo della conoscenza non soltanto deve saper amare i suoi nemici, ma deve anche saper odiare i suoi amici. Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. E perché non volete sfrondare la mia corona? Voi mi venerate? Ma che avverrà se un giorno la vostra venerazione crollerà? Badate che una statua non vi schiacci. Voi dite di credere a Zarathustra? Ma che importa di Zarathustra? Voi siete i miei credenti. Ma che importa di tutti i credenti? Voi non avete ancora cercato voi stessi. Ecco che trovaste me. Così fanno tutti i credenti. Perciò ogni fede vale così poco. E ora vi ordino di perdermi e di trovarvi. E solo quando mi avrete tutti rinnegato io tornerò tra voi. Questa citazione che Nietzsche ci tiene a mettere all'inizio di Ecce Homo per riuscire a discernere i meriti che lui ritiene anche giustamente, limitatamente, alla storia del pensiero tedesco, a mio avviso, di attribuirsi dalla misinterpretazione di un tentativo di costruire l'idolo di se stesso. È qualche cosa che ho trovato estremamente commovente. Poi viene ripreso molte volte nel libro. Torneremo su quest'autore, come vi dicevo. E che mi ha fatto pensare alla raccolta di Lingi che sta nel libro Nulla da cercare. Nulla da cercare che è un libro a firma Thich Nhat Hanh. Han, non adesso la mia pronuncia, poi di un nome vietnamita, potete immaginare. Comunque Monaco vietnamita, autore di tantissimi testi. Alcuni li ho letti molto molto interessanti. Questo è quello che preferisco. Recentemente scomparso. Un altro Han, solo che qua la H è anche alla fine. Beh, insomma, che contiene al suo interno la raccolta di Lingi. È di fatto un commentario, un'introduzione, un commentario a questo testo fondamentale. Lingi, monaco buddista a sua volta del 900 d.C. in Cina, fondatore della scuola Chan, che poi diventerà in Giappone lo Zen. La raccolta di Lingi, testo molto alieno alla cultura occidentale, ma meno alieno ad esempio al pensiero nicciano, che contiene il famosissimo motto «Se incontrate il Buddha, uccidete il Buddha». Cosa diceva lì? Lingi era questo monaco saggio, famoso, in Cina. Arrivavano tutti alla ricerca presso di lui, a pregare, a meditare con lui, al suo monastero, alla ricerca del grande segreto della saggezza e della sapienza. E di solito, quando facevano troppe domande, dimostravano troppa ansia di scoprire chissà quale verità rivelata, si prendevano delle bastonate. Era un po' il suo metodo per essere diretto. E se incontrate il Buddha, uccidete il Buddha, è l'ultima cosa che ti immagineresti di sentire da un maestro buddista. Invece, dice, riassume proprio quell'invito a non illudersi, a non idolatrare, a non cercare di fingere un mondo ideale, come avrebbe detto Nietzsche, che si sposa benissimo con quello che leggiamo ad esempio in Ecce Homo, e che accomuna Nietzsche al pensiero orientale, che conosceva, devo dire, neanche male, secondo me, si può intuire da alcuni riferimenti che lui fa. Ed è una cosa che mi è immediatamente venuta in mente, proprio perché è molto difficile, vedi la figura niciana attraverso anche Zarathustra, è molto difficile essere maestri di emancipazione, è molto difficile e sembra contraddittorio essere maestri di indipendenza, essere maestri di libertà, proprio perché significa predicare la più profonda emancipazione, il più profondo distacco anche da chi, tra virgolette, predica e quale virgolette ci vogliono, proprio perché è difficile chiamare predica qualche cosa, di antiillusorio, di iconoclasta e idolicida, ora questa parola me la sono appena inventata, ma avete capito cosa voglio dire. E quindi è una contraddizione che sta in realtà in chi non riesce ad essere buon lettore, buon ascoltatore di un certo tipo di insegnamenti, ovvero sia in questo caso del monaco che va da Lingyi, come si va da un idolo a cercare la grande verità e magari si becca la bastonata nei denti, ma ancora più bastonata nei denti è se incontrate il Buddha uccidete il Buddha, che suonano quasi inaccettabili. In questo senso mi viene in mente anche un altro testo che è quello di Stanislav Lech, Pensieri Spettinati. Pensieri Spettinati, un libro che ho già citato altre volte, un libro ritornante su questo canale, come sarà sicuramente ritornante, Nulla da cercare, o Nice stesso, raccolta di aforismi, uno di questi, o se un dio avesse detto credetemi e non credete in me, che è in realtà una pia illusione a sua volta, si potrebbe dire, proprio perché per quanto ci si sforzi di richiedere l'ascolto di quello che si dice, e non la confusione fra il messaggio e il messaggero, non c'è salvezza dal carisma. E così Nice, il suo Zaratustra, e così i monaci, alcuni di essi nella loro visione così stereotipica, costretti nelle maglie dalle quali cercavano di liberare chi avesse avuto voglia di ascoltarli, nelle maglie dell'idolatria, se un dio, qui possiamo pensare a Gesù Cristo, avesse detto credetemi e non credete in me. Questo credetemi possiamo immaginarlo come datemi ascolto, prestate orecchio a quello che ho da dire, fate caso al messaggio, lasciate perdere il messaggero. Eppure chiunque si occupi di comunicazione sa perfettamente che se lo scopo è risultare persuasivi, se lo scopo di un atto comunicativo è quello di commisurarlo all'uditorio per finalità persuasive di qualunque tipo, sarà molto difficile trascurare la componente carismatica, o fare finta che non ci sia, o decidere di non avvantaggiarsene. Quindi questo sarà sempre un equivoco fra messaggio e messaggero, anche dovuto ai mezzi della comunicazione, come dicevamo nel video precedente, al quale si sarà soggetti. Chi cerca idoli troverà comunque idoli, chi cerca idoli magari anche senza saperlo, troverà comunque idoli anche presso gli idolicidi iconoclasti. Saranno comunque l'idolo e quindi avrai persone con il santino di Nice, che rabbrividirebbe al solo pensiero, persone con il santino di Lingi o di chi volete voi. E questo ci fa pensare, per quello scrivevo YouTube a matita nell'introduzione lì di Ece Homo, proprio perché ti fa pensare all'utenza che cerca e trova, perché lo cerca in un bias di conferma rispetto al quale non c'è argomento, non c'è scossa bastonata di Lingi che basti, che cerca un idolo, forse a volte cerca un genitore, una figura in qualche modo surrogato di una figura genitoriale o dell'amico, in questa parasocialità. Sono problemi più vecchi dei social e sono da sempre in qualche modo la croce di chi predica indipendenza, emancipazione, eccetera. È una narrazione che, come tantissime altre, se ben costruita può risultare estremamente seduttiva e diventare involontariamente, è qui il punto interrogativo, la posa sexy di chi la perora.